Ci siamo preparati mettendoci in massimo impegno, ovviamente eravamo nuove alla Serie A, avevamo un sacco di timore, l'ordine di passaggio poi non è stato favorevole, eravamo le prime, però le ragazze si sono ben comportate, Maria ci ha aiutato e questo conta, la ginnasta che è venuta fuori in piedana, ma anche le mie ginnate si sono comparate molto bene, sono molto curiosa, spero che la seconda prova sappiano un po' in piedi, se non si viene abbastanza bene.